7 febbraio si celebra la giornata nazionale contro il bullismo a scuola. L'iniziativa fa parte di una campagna nazionale ideata dal MIUR denominata il Nodo Blu contro il Bullismo e vede gli studenti e le scuole italiane dire no a tale piaga attraverso iniziative proposte didattiche tra cui la realizzazione di uno spot. La data scelta coincide con la giornata europea della sicurezza in rete indetta dalla Commissione europea, il Safer Internet Day, per sottolineare come spesso il bullismo trovi terreno fertile anche negli strumenti offerti dal web.